Scusi signora, lei ha il momento del formaggio? Grana, grana padano naturalmente, sa, ha le proteine e le vitamine e per lui sono molto importanti. Lei ha il momento... Che formaggio usa? Io grana, gira e rigira un sapore così, è sempre buono. Signora, e lei? Io scelgo sempre grana padano perché a conti fatti conviene. E condimento, formaggio da tavola, ingrano. Grana padano, sempre al momento del formaggio.